Valentino Rossi è mondiale. Mondiale inteso non per i titoli che ha vinto nella sua carriera, ma nel senso che ha la straordinaria dote di attirare attorno a sé la passione e il tifo da ogni parte del mondo. E così probabilmente sarà anche con il suo casco gigante in piazzale d'annunzio, che dopo il suo svelamento ha visto in questi giorni un via vai continuo di selfie e turisti. Con gli stessi turisti che le attività a fianco della nuova opera si aspettano di vedere all'interno del loro locale, sperando di beneficiare dell'attrazione che il comune di Pesaro è stato in grado di regalare alla zona di Levante del Viale Trieste. Sicuramente è un'opera di grande richiamo, speriamo che sia anche a livello internazionale, dato i fans che ha Valentino sparso in tutto il mondo. Noi abbiamo la fortuna di essere qua vicini, ringraziamo tutta l'amministrazione comunale, il sindaco per aver pensato a questa piazza, al luogo un po' più nascosto del Viale Trieste e quindi di riportarlo all'attenzione a cui spetta, insomma a tutto il Viale. Sicuramente sarà un punto di attenzione che la gente avrà perché il nome di Valentino non ha bisogno di niente, quindi avere qua un'opera che lo raffigura penso che sia sicuramente un bene, ma non solo per Viale Trieste, ma per tutto Pesaro, per tutto l'indotto che può portare il nome di Valentino. Ma sicuramente è un'opera interessante e crea molto interesse da parte sia del pesarese che del turista. Non so cosa può portare, se può portare turismo o no. Noi comunque sui nostri siti internet e facebook abbiamo creato una promozione riguardante il casco di Valentino Rossi. In questi giorni comunque si è visto un po' di turismo e soprattutto dei fan di Valentino che vengono a visitare, soprattutto a Vuglia, ma vengono a vedere anche questo casco che hanno messo qui in piazzale d'annunzio. Voi siete proprietari anche della spiaggia di fronte alla vostra attività, credete che si possa creare per voi più un turismo balneare che un pernottamento nel vostro hotel? Sì, sicuramente la vedo meglio così, la vedo più in questa maniera, che il turista viene, fa la giornata al mare e viene a mangiare o qui da me nel ristorantino in spiaggia, fa la giornata in spiaggia o comunque nel ristorante di fianco, si fa due o tre foto con il casco di Valentino, visita Pesaro e passa la giornata così, più che comunque pernottare negli hotel. Grazie a tutti.